Allora, buonasera a tutti. Io devo dire che sono imbarazzato perché mi pongo una domanda. Ma a cosa serve il giornalismo d'inchiesta? A cosa serve scoprire notizie nuove? Cosa serve fare inchieste quando poi il palazzo fa finta di non vedere, fa finta di non ascoltare, si gira dall'altra parte. Questa domanda ha un senso soprattutto alla luce delle scoperte, delle notizie, delle carte che mostra Mario Giordano, per esempio, a Fuori dal Coro. Fuori dal Coro è una trasmissione l'unica, e sono contento, è l'unica che si sta occupando da tempo dei danneggiati da vaccino, quindi da voce ai danneggiati da vaccino, ed è l'unica che sta dimostrando, carte alla mano, che tutta la predicazione, tutto quel mega bla bla che per mesi e mesi ha infarcito le altre trasmissioni televisive, dicendo che era importante la campagna dei vaccini, bisognava andare verso quella direzione, bisognava proteggere gli anziani, i più fragili, tutta questa roba qua, ok? Bene, adesso Mario Giordano sta dimostrando che coloro che dicevano queste cose, quindi dall'AIFA in giù, erano consapevoli dell'incertezza di quello che stavano dicendo, cioè vuol dire che non stavano parlando in nome della medicina, non c'era una validità medico-scientifica a sostegno di quello che loro stavano dicendo, ma era una verità che era soltanto di tipo politico, perché evidentemente serviva al governo e serviva al ministro. E allora se adesso, dopo le elezioni, dopo quello che è successo, dopo tutto quello che ben sappiamo e alla luce anche dell'inchiesta di Bergamo, c'è dopo tutto quello che abbiamo scoperto, ancora i vertici di AIFA sono intoccabili, io mi domando, ma chi li protegge? Che Mario Giordano sta facendo giornalismo d'inchiesta, Maurizio Belpietro con la verità sta facendo giornalismo d'inchiesta. Noi nel nostro piccolo, come il paragone, stiamo facendo un giornalismo d'inchiesta, stiamo dando voce a coloro che voce non hanno e che la richiedono. E quindi stiamo allungando quella che era la nostra battaglia, che era stata la nostra battaglia politica. Qualcuno dice, no ma ormai è una stagione finita. No, non è una stagione finita. Sarebbe come dire, è finita la stagione della rivendicazione dei diritti. Le battaglie sui diritti devono continuare, anzi a maggior ragione adesso, perché stanno facendo di tutto per offuscare i diritti, per indebolire i diritti, da quello del lavoro alle libertà fondamentali. E allora mi domando a che cosa serva fare giornalismo d'inchiesta? Se poi le scoperte che vengono fatte, o mi smentisci con la carta, mi dici, guarda, stai dicendo una marea di stronzate perché questa carta è falsa. Ma se nessuno ha il coraggio di smentire, io l'ho sentita la Gismondo, la Gismondo sta dicendo, signori, ma la verità è che, caro Mario, tu stai raccontando delle cose che noi sapevamo. Vi dico la verità, noi le sapevamo, ma forse però neanche così grosse le pensavamo. Avevamo capito delle cose e sentivamo questo strano odore, ma che addirittura lo dicessero loro nei messaggi, nei codici. Lo scrivevano e allora tutta sta pantomima dei più fragili, porca miseria! Adesso vogliamo non solo sapere la verità, ma vogliamo sapere chi protegge i papaveri di AIFA e di tutte quelle strutture che hanno gonfiato il bla bla di quel periodo. E attenzione perché adesso, dopo che, guardate, le rivelazioni fuori dal coro, le probabilità che un anziano muoia dopo il vaccino è elevata. Ma AIFA insabbiò la notizia, sotto accusa Nicola Magrini, ex direttore generale dell'AIFA. Scoperto perché i bambini si contagiano meno con il Covid, però li seguivano con la siringa, scrive Francesco Burgonovo. E attenzione perché la prossima battaglia la fanno sulla felicità. Prima era dobbiamo proteggere i nostri anziani, dobbiamo proteggere i più fragili e hanno costruito la loro narrazione. Adesso devono costruire un'altra narrazione. La gioia dei bambini? Cosa vuoi fare? Vuoi sottrarre un bambino ad una coppia omogenitoriale? Fatta da genitore 1 e genitore 2? Sei così cinico da smorzare il sorriso di un bambino. No, ma il problema non è questo, è che quel bambino è nato su una prostituzione dei diritti, su un utero in affitto. Allora mi domando la felicità del genitore 1 e del genitore 2. Vale l'utero in affitto? Qual è il senso della battaglia progressista? Qual è il senso delle battaglie femministe? E non c'è nessun senso, ecco perché hanno costruito in laboratorio la candidatura della Schlein. Abbiamo detto subito, appena abbiamo visto tutte queste persone non iscritte al Partito Democratico che andavano a votare per la Schlein dopo una campagna fatta a suo favore da Repubblica, dalle trasmissioni varie. È stata costruita ad arte la candidatura della Schlein per portare avanti l'agenda mondialista dove deve essere riconosciuto il diritto dei bambini fatti con l'utero in affitto, ok? vengono affidate a genitore 1 e genitore 2. È così, è così. E poi è chiaro che quando le trasmissioni televisive ti raccontano questo, da casa chi non ha capito il valore politico di una battaglia politica forte, è perché in televisione ti fanno vedere tutto bello, no, ah che bello, il bambino, la coppia gay, il figlio di vendola piuttosto che il figlio di un'altra coppia, ma no, il problema di fondo è un altro. Il problema di fondo è, ma quel bambino al mondo come è venuto? Cioè tu hai creato un bisogno di cosa? A me sembra che tu stai andando più che altro a badare alla felicità della cosiddetta coppia omogenitoriale. E quindi un bambino prima, cioè ancora prima, non è il dopo, è prima che bisogna porre la questione. Non è sul dopo, perché poi la felicità del bambino è tutta da vedere, lo vedrà dopo. Ma intanto è prima che è stata compiuta una violazione enorme, è prima che viene smontato, disarticolato il senso delle grandi battaglie e quindi siamo qua, uteri a oltre 200 mila euro, c'è pure l'assicurazione in caso di morte del neonato. Insomma, è questo il tema, la maternità surrogata, l'utero in affitto. Altro che l'atto d'amore, non c'è l'atto d'amore, c'è l'atto di egoismo prima che sfrutta la povertà e il bisogno drammatico di chi presta il proprio corpo per fare contento qualcuno che si può permettere quelle cifre. ecco perché è una battaglia, ecco perché sono grandi battaglie, ma il problema è che chi rivendica queste battaglie deve utilizzare la scrittura dei canali, non possiamo assistere in Rai sempre alla stessa predicazione. Basta! C'è bisogno di battaglie politiche, altrimenti poi se ti presentano la coppia gay col bambino sorridente e la fai vedere dalla mattina alla sera, poi ti sembra normale dire e domani, ma perché vuoi togliere e negare la felicità di quel bimbo? Intanto è tutto da vedere la felicità di quel bimbo, ma il problema è prima, come è nato quel bambino? Cosa è successo prima? Raccontamelo, raccontamelo! Ecco dove serve l'inchiesta, dove serve il giornalismo d'inchiesta. Ok? Va bene, ciao a tutti, buona serata.